Ci siamo. Al fatidico 3 giugno mancano meno di 30 ore ma la situazione sembra ancora confusa. Se Liguria e Marche spingono per il sì alla riapertura tra regioni, dal Lazio l'assessore alla sanità invita alla prudenza. Rincara la dose il governatore toscano Rossi che dichiara sarebbe stato meglio attendere una settimana in più le stesse parole usate da quello del Molise. In Campania, Falorosponda De Luca, non si comprende, commenta quali siano le ragioni di merito che possano motivare un provvedimento di apertura generalizzata. Dalla Sardegna Solinas prova a smussare le asperità. Se non dovesse essere accolta l'idea del passaporto sanitario ha detto registreremo gli ingressi e ai turisti che decideranno di fare il test potremmo riconoscere un piccolo voucher vacanze. Proprio sul caso Sardegna arrivano le scuse del sindaco di Milano. Sono stato troppo ruvido, ha scritto Sala, quel me ne ricorderò, comunque sbagliato nella forma, era rivolto esclusivamente alla politica sarda. Dal Veneto, Zaia sostiene che sia necessario prima del 3 giugno un ulteriore provvedimento del governo. Intanto il punto di mediazione potrebbe essere quello di un sistema di tracciamento per tutti i viaggiatori.